Per la prima volta nella storia dell'Università di Trieste, oggi sono stati conferiti direttamente dal magnifico Rettore i titoli di Master di primo e secondo livello nell'ambito di un unico Master Day che si è svolto alla presenza, tra gli altri, del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute, Professor Niccolò De Manzini, e del Commissario Straordinario dell'Aswiz, Antonio Poggiana. 17 masterizzanti hanno esposto le loro tesi frutto di un anno di lavoro presso le strutture dell'azienda, professionisti provenienti da tutta Italia che hanno frequentato i Master di Ecografia, Andrologia e delle Stomie. L'iniziativa che si è tenuta all'ospedale di Catinara ha ottenuto il patrocino delle più importanti società scientifiche, come ha sottolineato in una nota il Vice Presidente della Regione Riccardo Riccardi. Il Master di Ecografia è organizzato dal professor Michele Bertolotto e dal dottor Stefano Bucci e dalla terza edizione. I medici che vi partecipano approfondiscono le proprie conoscenze sull'ecografia nefrologica, urologica ed andrologica grazie alle importanti competenze radiologiche e dalle complete disponibilità tecnologiche. Il Master di Andrologia è alla sua undicesima edizione ed è tenuto dal professor Carlo Trombetta e dal professor Giovanni Liguori. Chi vi prende parte approfondisce le proprie conoscenze sull'ecografia nefrologica, urologica ed andrologica ed in particolare sulla chirurgia andrologica nel corso di lunghi stage che si svolgono presso le sale operatorie di Catinara e del Maggiore. Il Master delle Stomie è tenuto dal professor Trombetta, dalla dottoressa Francesca Vedovo, dall'infermiere professionale Enzo Federico e dalla coordinatrice infermieristica Evelyn Makuc. I professionisti che vi partecipano approfondiscono le proprie conoscenze sul management sanitario dei pazienti istomizzati ed incontinenti.